MF Ecology, una vasta gamma di servizi offerti all'insegna dell'esperienza e della professionalità. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Clemente Tafuri, numero 4. Domenica per la Cavese comincerà la Pool Scudetto di Serie D. E non è una novità per i Bianco Blu, che già negli anni precedenti avevano partecipato a tale torneo. Tre gironi da tre squadre. E quest'anno i Bianco Blu misureranno la propria forza domenica con l'Altamura e poi mercoledì prossimo, oppure domenica 19, con il Trapani. Una partita in casa e una in trasferta per la squadra di Mister di Napoli, che passerà alle semifinali vincendo entrambe le gare, oppure con una vittoria e un pareggio, a patto di essere almeno la migliore seconda. Già nel 1997 la Cavese aveva partecipato al torneo tra le prime classificate di ciascun girone. La squadra, allenata all'epoca da Ezio Capuano, neopromossa in C2, vinse il proprio girone triangolare con quattro punti, frutto della vittoria casalinga sui salentini del Tricase e poi del pareggio esterno di Crotone. Era la compagine aquilotta dei vari Carafa, Piemonte, Prisciandaro e Fiore. Ci fu l'approdo alle semifinali, ma alla Cavese toccò affrontare la Strea, che perse a Cava 1-0, ma poi riuscì a ribaltare il risultato al ritorno al Casal del Marmo, vincendo 3-1. Quel torneo lo vinse la Biellese, che era emersa dal girone A per approdare alla C2. Una nuova partecipazione alla Puscu-Detto la Cavese la sostenne nel 2003, e i metelliani guidati da Mario Somma, che erano tornati da poco in C2 emergendo dalla Serie D girone I, vissero tutte e due le partite del girone eliminatorio, 2-1 sul campo del Melfi, 2-0 in casa con Lisernia. In semifinale Mangiapane e compagni trovarono Livrea, una squadra forte che però la Cavese batte fuori casa 2-0 all'andata. Poi i piemontesi prevalsero a Lamberti, ma solo 1-0, quindi in finale ci andò la Cavese stessa, che ritrovò Lisernia sul neutro di Civitavecchia e lì ebbe la meglio ai tiri di rigore, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. L'apoteosi di una tifoseria, che si lasciò definitivamente alle spalle la retrocessione della società per tentato illecito sportivo, patita l'anno prima. In questa edizione, la 23-24, la Cavese di Raffaele di Napoli avrà le bocche da fuoco a Dessi di Piazza e Foggia, più la fantasia di Felleka e la sostanza di Zenelai e Urso, oltre a una difesa solida. I metelliani trovano dopodomani l'Altamura la prima giornata e vincere la prima gara in casa sarebbe per loro un risultato importantissimo, per poi affrontare la sfida in Sicilia col Trapani, sapendo di poter contare forse anche sul pareggio. Dipenderà molto da come sarà la situazione negli altri due raggruppamenti, perché potrebbe entrare in gioco anche il calcolo della differenza reti. La Pulscudetto è una prova generale in vista del prossimo campionato di Serie C, perché tutte le partecipanti hanno maturato il diritto a iscriversi alla terza serie. Bisogna viverla con serenità e con la consapevolezza di essere un gruppo valido.